e finiscono così le partite di UEFA Champions League Chelsea-Juventus 4-0 allo stadio Stamford Bridge a Londra il Chelsea batte 4-0 la Juventus, cappottone assurdo mentre dall'altra parte allo stadio dei Swiss lo Young Boys pareggia 3-3 in casa con l'Atalanta l'Atalanta che si brucia questa possibilità di una vittoria all'ultimo gli ultimi minuti crolla, si fa rimontare da 2-0 a 3-2 no, da 2-1 a 3-2 e poi nel finale pareggia 3-3 ma veramente è stata una partita bellissima l'Atalanta-Young Boys mentre la Juve oggi fa una bruttissima prestazione male male da ogni punto di vista solo il Chelsea c'era in campo quindi sconfitta molto pesante per la Juve prima di analizzare bene la partita vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questo video un bel commento, ditemi la vostra qui sotto se vi va iscrivetevi al canale attivate la campanella di notifiche mi raccomando e se vi va passate qui sotto in descrizione seguitemi sui social, instagram, piattaforma viola andate a seguire anche la pagina Vena Romanista col quale sto collaborando con il mio codice sconto già avrete un ulteriore sconto vendono maglie da calcio con il mio codice sconto avrete un ulteriore sconto mi raccomando approfittatene adesso che ci sono i sconti e col mio codice sconto pagherete ancora meno e se per collaborazioni commerciali vi lascio la mia mail qua sotto in descrizione parlando bene delle partite analizzo diciamo nel primo tempo ho guardato molto Chelsea-Juventus poi nel secondo tempo diciamo che da quando praticamente il Chelsea è passata sul 3-0 ho levato la partita io ho messo, mi sono guardato tutto il finale di partita di Atalanta di Young Boys Atalanta che nel frattempo seguivo in contemporanea mentre vedevo pure la Juve comunque stavo in live, se vi volete rivedere la live ve la lascio a fine video e qui sopra nelle schede ve la lascio insomma parlando della partita diciamo che il Chelsea passa subito in vantaggio al 25esimo con la rete di Chalobah arriva un gol e un po' la difesa da Juve oggi ha ballato parecchio, vi dico che la Juve ha fatto 8 tiri totali e 2 in porta non è stata per niente pericolosa mentre il Chelsea ha vinto 4-0 ma secondo me poteva farne anche di più perché c'è avuto più occasioni mi pare in due occasioni ha compiuto il miracolo Cesni, nel finale poteva finire pure 5-0 sta partita tranquillamente se non era per Cesni diciamo che la Juve poche volte si è trovata forse un'occasione ce l'ha avuta con Morata un'altra occasione non mi ricordo chi ce l'ha avuta mi viene in mente solamente quella con Morata che tra l'altro era un ex di questa gara poi tante occasioni da parte per il Chelsea quindi il secondo gol lo segna James al 55esimo poi c'è l'infortunio di N'Golo Kanté che esce e al suo posto entra se non sbaglio Uzzonodoi che proprio lui appunto quando subentra fa il gol dopo pochi minuti che subentra segna il gol del 3-0 quindi al 58esimo segna il gol Uzzonodoi veramente un bel giocatore giovanissimo se non sbaglio ha 20 anni quindi è veramente giovane 2002 forse 2001-2002 giovanissimo come giocatore e poi ragazzi la Juve la Juve crolla dopo il 3-0 diciamo smette proprio di giocare a pallone e prende anche il gol del 4-0 nel finale al 95esimo tra l'altro prima del 4-0 c'è un'altra occasione del Chelsea in cui Chesney fa il miracolo e poi arriva il gol del 4-0 con Timo Werner al 95esimo vi ricordo che mancava anche Romelu Lukaku il Chelsea con pressiamento ha fatto 21 tiri 8 in porta in questo momento la Juve è seconda nel girone e chiama i stessi punti del Chelsea solamente che il Chelsea sta avanti alla Juventus per differenza redi parliamo di Young Boys Atalanta una partita bellissima in cui l'Atalanta ha dominato fino a tutto il primo tempo e gran parte pure del secondo e diciamo che passa in vantaggio l'Atalanta appunto con Duvan Zapara era sempre lui ragazzi Duvan Zapata si conferma anche in Champions così come in campionato uno dei migliori attaccanti della Serie A e si conferma anche in Champions League e poi ragazzi diciamo che diverse occasioni l'Atalanta appunto se non sbaglio ha avuto 14 occasioni in tutta la partita e ha fatto 5 tiri in porta mentre Young Boys è stato parecchio pericoloso nella parte finale di partita segna il gol del 2-0 innanzitutto Palomino su calcio d'angolo se non sbaglio segna proprio Palomino tra l'altro l'Atalanta è una delle squadre che segnano più calciatori se non sbaglio ha fatto 10 gol in questa Champions e hanno segnato praticamente 9 giocatori diversi a parte Zapata e Muriel che hanno fatto praticamente due gol e gli altri tutti quanti un gol una volta Pessina una volta Froiler una volta Palomino una volta De Miral tutti giocatori diversi quindi è una squadra che segna con tanti giocatori questa è una cosa interessante poi dal 2-0 non so come no vinceva 2-1 perché mi sono scordato di che c'è il gol di Seba Seba Ceu Seba Ceu al 39esimo dello Young Boys poi diciamo che poteva tranquillamente passare sul 3-1 se ha mangiato un gol Zapata il gol del 3-1 e poi ragazzi all'ottantesimo pareggia con Sierro lo Young Boys e lì arriva una doccia fredda per l'Atalanta che non ci capisce più niente e dopo 4 minuti prende un altro gol Elfi si chiama Efti il gol del 3-2 e poi dopo 3 minuti entra in campo Muriel quindi Gasperini aggiunge un altro attaccante appena entra senza neanche scaldasse calcio di punizione Muriel sul primo palo gol qui bisogna dire c'è stata una papera del portiere dello Young c'è stata una papera del portiere dello Young Boys però comunque finisce 3-3 per l'Atalanta ancora non è chiusa questa qualificazione però diciamo aveva una diotto occasione per vincere e l'ha sciupata però adesso si verrà tutto quanto rimandato alla prossima partita fatemi sapere la vostra qui sotto in un commento un bel mi piace iscrivetevi e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi iscrivetevi ciao regà bella grazie a tutti